E' l'Istituto Tecnico Monaco di Viale Mancini a Cosenza la sede scelta per le operazioni di nomina a tempo determinato dei docenti per le scuole superiori, con vocazione partite tra malcontento e ridimensionamento. Sicuramente quello che noi lamentiamo è un'informazione poco chiara da parte dell'USP, nel senso che per esempio noi non conosciamo, come molti nostri colleghi in Italia, i nominativi di chi entra di ruolo per esempio o di chi assume un incarico annuale. Ecco, noi tutte queste cose ne lo sappiamo e dobbiamo telefonarci a vicenda per scoprire le informazioni che invece riteniamo dovrebbe fornirci il nostro ufficio provinciale. Convocazioni però all'insegna del ridimensionamento tra cattedre e ore di docenza a disposizione in numero ridotto. Nella nostra provincia si assiste a una drastica riduzione di posti, ci sono sempre più alunni nelle nostre classi, ci sono molti ragazzi disabili che non riescono ad avere, non si sa per quale motivo, un docente di sostegno o comunque in base alle nuove normative non c'è sempre il rapporto di uno a uno, non c'è un solo docente per un singolo alunno portatore di diversa abilità. Il coordinamento ha provveduto poi al controllo sull'andamento regolare delle operazioni. Ci sono alcuni casi specifici di alcune classi di concorsa tipica, ad esempio che oggi sono state discusse dai miei colleghi con i dirigenti dell'ufficio e venerdì noi andremo dal dottore Penta, dal ex provveditore come si diceva una volta, per avere delle informazioni in merito a questa situazione e speriamo anche che tante tante cattedre che abbiamo saputo tramite vie ufficiose essere presenti sul nostro territorio, mano a mano vengano alla luce. Grazie 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 Grazie